Lo sport è fatto di vittorie, è fatto di sconfitte, è fatto di panchine, di allenatori che saltano, è fatto di classifiche ma soprattutto è fatto di discussione. Noi discuteremo con Venti di Sport la nuova trasmissione del lunedì sera e lo faremo ovviamente con il sottoscritto ma anche con gli ospiti. Uno sarà un collega e un altro un dirigente, un giocatore, un allenatore, un presidente di una qualsiasi squadra. La novità però di quest'anno è la triplice veste della trasmissione perché voi ci potrete vedere sulla 2, ci potrete ascoltare su Rete 1 ma soprattutto ci potrete vedere anche sul web. Quindi mi raccomando da lunedì 2 settembre kick off alle 20.30 per Venti di Sport.